Salve, benvenuti sul mio canale. Vi voglio spiegare che cosa potete trovare di interessante per motivarvi a sottoscrivere un abbonamento. In primo luogo un abbonamento di primo livello che vi consente di avere un aggiornamento degli approfondimenti, delle notizie e degli spunti di riflessione quasi quotidiani che troverete appunto al primo livello. Al secondo livello troviamo anche delle lezioni, delle giornate di formazione, degli approfondimenti più specialistici, uno, due, tre la settimana, che vi consentono di approfondire i vari temi del diritto e in particolare del diritto amministrativo. Il terzo livello, quello che chiamo professionale, è il livello più approfondito dove ci sono interi corsi di formazione, interi percorsi per analizzare nel dettaglio a vari livelli il diritto amministrativo. Quindi se siete interessati potete scegliere la soluzione dell'abbonamento. Vi ringrazio e spero di trovarvi sul mio canale.